Le cure mediche possono essere rivolte a trattare i segni e i sintomi di una malattia, oppure le sue cause profonde. In medicina cinese questo concetto è espresso bene dalla metafora della cima e della radice dell'albero. Noi osserviamo la cima dell'albero, vediamo i rami, le foglie, che rappresentano i segni e i sintomi visibili di una malattia. La radice dell'albero affonda nella terra, rimane invisibile ai nostri occhi e rappresenta le cause profonde della malattia. Il medico osserva la presentazione clinica. Dallo studio attento e minuzioso di tutto ciò che è visibile, egli può intuire ed arrivare a conoscere l'invisibile, cioè le cause profonde della malattia, il terreno che ha reso possibile lo sviluppo stesso della malattia. Importante è osservare la chioma dell'albero, con i suoi rami, le sue fronde. Essenziale percepirne i movimenti, i mutamenti, così da comprendere la profondità e la ramificazione delle radici, per curare tutti i fattori coinvolti.